buona giornata e bentrovate e trovate a tutti eccoci insieme 23 aprile questo è l'almanacco e questo è l'oroscopo oggi è san giorgio il protettore di alabardieri arcieri e armaroli chi non la ricorda come signora pina è lei milena vukotic una grande attrice nata il 23 aprile del 1935 ancora compleanni giovanna krupa modella attrice polacca il 23 aprile del 1979 siamo come sempre pronti ad andare incontro al nostro oroscopo dall'ariete ai pesci in questo 23 aprile la frase di oggi ci ricorda amor non si compra e non si vende ma in premio d'amor amor si rende ariete molti pianeti amici vi danno la grinta e la determinazione giocate all'attacco atmosfera frizzante in amore rispettate senza lamenteli gli obblighi familiari la solidarietà sarà ricompensata in toro la lungimiranza vi aiuta a vedere il lato essenziale delle cose risolvendo i problemi alla radice in amore parlate a cuore aperto recupererete la piena fiducia del partner divertimento assicurato questa sera con pochi amici gemelli oggi potrà verificarsi qualche imprevisto non lasciatevi spiacciare fate appello alle vostre doti di improvvisazione scambi interessanti e incontri piacevoli in ambienti nuovi in campo sentimentale avete bisogno di estroversione non nascondete i sentimenti cancro fate il punto sulla situazione sentimentale vi preparate a una svolta decisiva che a buone premesse per la vostra realizzazione riequilibrate anche la vostra salute cercando di curare di più l'alimentazione leone la vostra straordinaria spinta creativa vi incoraggia a correre rischi ancorate le vostre iniziative a un sano realismo senza però rinunciare alle aspirazioni più autentiche contatti umani stimolanti e ricchi di promesse stasera vergine una discussione che coinvolge la vita familiare richiede che valutiate con cura gli aspetti materiali e sentimentali più importanti accettate di scambiare idee con le persone che la pensano in modo diverso in amore cercate maggiore coerenza bilancia il bisogno di indipendenza vi impone scelte coraggiose e innovazioni non sempre capite da chi vi circonda venere promette un dialogo brillante con chi amate e vi invita a superare le apparenze in famiglia siate più tolleranti scorpione l'obiettività vi aiuta a schierarvi dalla parte giusta e a difendere con successo i vostri ideali contattate un amico di cui avete profonda stima una maggiore spontaneità aiuta il dialogo con chi vi circonda e suscita apprezzamenti nei vostri confronti sagittario forte spinta al rinnovamento cominciate dalle piccole cose sole venere mercurio stimolano il bisogno di affermarvi allargando i vostri spazi di espressione magnetismo personale e a pagamento in amore capricorno uno sforzo di disponibilità e comprensione eviterà chiusure in campo sentimentale rendendo il clima più sereno e costruttivo controllate la salute qualche sintomo di stress non va trascurato acquario oggi si alterneranno momenti di straordinario dinamismo a pause che vi serviranno a riflettere e a preparare piani per il futuro la diplomazia vi aiuterà a superare qualche irrigidimento in chi vi circonda pesci nell'ambiente familiare affrontate una battaglia che potete vincere evitando ambiguità e muovendovi in modo diretto ed essenziale emozioni intense stasera nella vita affettiva voglia di conquistare e di lasciarvi conquistare